Chiamo qui gentilmente il professor Giuseppe Vegas, presidente della Reversal Sim, per il tema la raccolta di capitali per le aziende in crisi. Prego, professore. Grazie e buona giornata. Io partirei subito dalle ultime cose che ha detto l'ingegnere incarnato. Se noi crediamo, e abbastanza la storia ce lo dimostra, che è verosimile, alla teoria di Schumpeter secondo la quale il capitalismo deve essere creativo dopo essere stato distruttivo, noi non vorremmo fermarci alla parte distruttiva nel nostro paese, vorremmo arrivare giustamente anche a quella costruttiva, perché a distruggere è facile creare un pochettino meno. E allora sicuramente le occasioni di ripensamento di alcuni sistemi di vita nostra vanno colte. Giustamente l'ingegnere incarnato parlava di osservazione dal punto di vista giuridico e non economico, ma in realtà le due cose si connettono in qualche modo, a parte il fatto che gli strumenti sono tutti migliorabili e perfezionabili. Mi limito a ricordare che il crowdfunding fu introdotto in Italia prima che negli altri paesi. Forse ci siamo un po' poi addormentati su quello che è stato fatto e quindi va aggiornato, ma comunque lo strumento a disposizione è già abbastanza conosciuto dal mercato. Ma se non ci fosse stata la nuova legislazione sulla crisi di impresa, probabilmente da un punto di vista giuridico ci troveremmo in una situazione di inferiorità perché non potremmo disporre di un certo tipo di strumenti. È una legislazione che nel bene o nel male però ha consentito un salto di carattere culturale alle nostre imprese, cioè ha fermato il principio in base al quale chi fallisce o chi è in crisi non sempre è un reprobo. A volte può sbagliare, a volte possono essere le condizioni di mercato che cambiano, che creano delle crisi anche nelle imprese o negli imprenditori che sono migliori ma si trovano in una situazione che improvvisamente cambia il mercato, cambiano le regolamentazioni, cambiano i soggetti che offrono prodotti. Ovviamente la base di tutto è, e questo sono assolutamente d'accordo, è una porta aperta ampiamente sfondata, che tutta questa cosa interessa. Interessa sostanzialmente a far crescere il benessere delle nostre popolazioni perché noi facciamo tutte queste cose con un obiettivo unico che è quello di portare un meccanismo che consenta, anziché come spesso è venuto nel passato, che proibisca la crescita del prodotto interno lordo, quindi la diffusione del benessere. Questo alla fine è il motore di tutte le iniziative di carattere di politica economica ma anche di carattere giuridico, nella misura in cui il problema giuridico condiziona, favorisce o impedisce uno sviluppo di carattere economico. Quindi, tornando in sintesi al problema dei problemi, è che noi stiamo aprendo una sorta di nuovo mercato sul finanziamento delle imprese in crisi. Era un mercato che non esisteva, magari esisteva in modo sotterraneo, sottobanco, ma non era un mercato così aperto e così trasparente, adesso inizia a esserci. La considerazione è che l'imprenditore che sbaglia può avere sbagliato, può essere stato assoggettato a situazioni di mercato imprevedibili e quindi non è di per sé un reprobo, ma può ritornare a far funzionare la propria impresa, ormai si è diffusa, ma a questa si è associato, visto che noi stiamo attraversando una fase nella quale la funzione sociale dell'impresa sta assumendo un valore superiore rispetto al passato, perché nel passato ci si limitava a considerare la funzione economica dell'impresa. L'impresa andava bene se produceva redditi. Adesso non più, occorre anche che derivino delle esternalità rispetto alla società nel suo complesso o all'ambito territoriale in cui vive o comunque a un certo gruppo di consociati, per cui l'impresa deve non solo fare il lavoro tipico che le è stata assegnata nei secoli, ma anche un certo lavoro di supplenza, forse deriderà anche dal fatto che gli stati hanno sempre maggiori oneri di funzionamento e quindi hanno difficoltà a espletare tutti i maggiori compiti che si stanno assumendo negli anni, ma l'impresa deve assumere anche un onere di supplenza di interventi pubblici che non sempre lo Stato o gli altri enti pubblici sono in grado di fare. Quindi all'impresa moderna sono fatti carico molti più compiti rispetto al passato e quindi anche in questo caso l'impresa come soggetto, a prescindere dalla figura dell'imprenditore o degli imprenditori va salvaguardata, il primo caso più evidente è quello per motivi di carattere occupazionale, ma va salvaguardata anche per motivi di carattere più latamente sociali. Quindi se noi uniamo da una parte un approccio secondo il quale la coscienza dell'imprenditore è meno giudicata rispetto al passato, ma è dall'altra un approccio secondo il quale l'impresa comunque, a meno che non produca cose dannose per la società, ma comunque è un bene della collettività perché in parte la rappresenta e in parte favorisce il miglioramento della collettività stessa, questo significa che la salvaguardia dell'impresa assume un valore economico e ovviamente giuridico perché è riconosciuto dalla legge e la legge la quale consente anche di attuare degli interventi di carattere economico molto superiore rispetto al passato. Se è così bisogna analizzare anche la nuova normativa sulla crisi d'impresa e vedere i lati positivi che essa contiene. Sicuramente contiene dei lati positivi perché consente tutta una serie di misure per far ripartire o per non fermare o per dare nuova benzina alle imprese che hanno delle difficoltà. La qualcosa però comporta anche la soluzione di qualche problema di carattere nuovo. Vado molto in sintesi perché non vi voglio annoiare e voglio sentire quello che diranno gli altri colleghi, ma sicuramente nel momento in cui si riconosce il meccanismo del tentativo di salvataggio stragiudiziale oppure gli accordi concorsuali, si riconosce che per il risanamento dell'impresa deve essere definito un piano attendibile, noi andiamo a creare una nuova categoria o perlomeno richiediamo alle vecchie categorie di professionisti che si occupano di gestione di impresa o andiamo a creare una nicchia in questa categoria degli specialisti del risanamento perché i piani nuovi che dovranno essere fatti non sono esattamente i soliti programmi delle imprese, i soliti piani dell'impresa, ma devono incorporare una serie di cautele in più, cioè devono stare attenti alla gestione finanziaria, devono stare attenti alla gestione dei crediti perché se l'impresa può ottenere nuovi finanziamenti e questa è una novità della legislazione, questi finanziamenti devono avere particolari caratteristiche, devono essere più controllati, sono in qualche modo in contrasto con i vecchi debiti e quindi bisogna vedere come graduare questi finanziamenti, quale sarà il rapporto tra i vecchi e i nuovi creditori e quindi servono dei professionisti che siano in grado di fare questo lavoro che non credo sia proprio un lavoro facilissimo, è un lavoro certamente complicato, però questi professionisti possono consentire di recuperare delle imprese che si trovano in un livello di difficoltà che prima sarebbe stata una sorta di condanna a morte che adesso è semplicemente una malattia che è una malattia come tale va curata e quindi tutta la questione del pagamento dei vecchi, dell'incrocio tra il pagamento dei vecchi debiti, la nuova possibilità di finanziamento è una questione non facilissima da risolvere, anche perché se da una parte la normativa della legislazione sulla crisi di impresa è forse anche troppo dettagliata e quindi può creare dei problemi applicativi, però crea una modifica al sistema delle regole generali del passato e quindi occorre in qualche modo fare fronte da un punto di vista operativo, forse ci potranno essere anche delle difficoltà operative e probabilmente conoscendo come funzionano le cose da noi ci sarà da attendersi qualche intervento della magistratura in questo campo, anche qui certo sia l'amministrazione pubblica sia la magistratura dovrebbero in qualche modo adeguarsi rispetto alle nuove esigenze, probabilmente in qualche realtà del nostro paese esistono già tribunali dell'impresa, questi forse saranno i primi ad occuparsi del tema e i loro componenti hanno già un certo know-how superiore rispetto alla media e quindi questo almeno lascia ben sperare. Il problema invece forse più rilevante è quello di trovare i soggetti che possono finanziare l'impresa, posto che il finanziamento è sottoposto a una serie di regole diverse dai finanziamenti normali. Il sistema del crowdfunding soprattutto in una visione più aperta rispetto all'oggi potrebbe funzionare benissimo, però ovviamente per funzionare bene non può non essere in concorrenza con altri sistemi di finanziamento perché è dalla concorrenza ai sistemi che poi si ottiene il risultato migliore. Se è così allora dobbiamo porci un problema che riguarda principalmente il sistema bancario, perché il sistema bancario sta diventando un sistema alquanto spurio. Le banche non fanno più il vecchio lavoro, sì forse l'hanno fatto l'anno scorso perché lo spread tra i tassi attivi e quelli passivi era talmente elevato che ha consentito, insomma come avrebbe detto Hegel di notte tutte le vacche sono nere, quindi a lei può andare va bene, ma tornando invece a una gestione maggiormente nella normalità sicuramente le banche non hanno più quella potenza di fuoco facendo il vecchio mestiere, quindi si devono buttare sui mestieri nuovi, fondi, consulenza, private equity eccetera, cose nelle quali funzionano però anche a volte un po' meno. Qui invece andiamo verso un meccanismo che è forse più tradizionale perché il finanziamento dell'impresa in crisi certo può essere attuato attraverso un sistema di interventi da parte di soggetti specializzati, ma potrà trovare anche nei finanziamenti bancari una leva piuttosto elevata, ma allora bisogna porsi il problema del rapporto tra questi tipi di finanziamenti e finanziamenti ordinari. Abbiamo visto che negli ultimi 15 anni dopo la crisi del primo decennio del secolo la regolamentazione del settore bancario è stata molto incisiva, a volte pesante, a volte ha provocato delle difficoltà, ma in ogni caso ha mantenuto una certa resilienza del sistema bancario a costo però di restringere il livello del credito. Ci ho detto, se si adottasse un sistema di finanziamento delle imprese in crisi, come questi crediti potrebbero essere classificati a livello bancario? La regolamentazione attuale che è stata attirata un po' la corda del boia negli ultimi 15 anni, adesso forse si sta allargando un po', ma sarebbe in grado di rapidamente adeguarsi e soprattutto la differenza tra il credito ordinario e il credito delle imprese in crisi pone qualche problema, perché noi già sappiamo che il credito delle imprese in crisi è più a rischio rispetto al credito ordinario e quindi potrebbe essere considerato ex ante una sorta di NPL o OTP? Se così fosse, come deve cambiare la regulation in questo campo? Perché non possiamo pensare che io ottengo un credito e automaticamente questo credito entra nel calderone dei crediti a rischio, il quale automaticamente in base alle regolamentazioni europee e della BCE devono essere liquidati entro un certo periodo, sarebbe un meccanismo suicida che non consente di risolvere il problema perché giuridicamente siamo lì e quindi bisogna trovare un meccanismo che consenta di superare questo sistema, altrimenti si potrebbe correre il rischio che l'intera gestione di questi crediti e quindi anche l'erogazione sia affidata esclusivamente a un circuito non banking, a un circuito diverso, il quale può funzionare benissimo, ma ripeto può funzionare benissimo se è in un regime di concorrenza con il circuito ordinario, se è una cosa che va per conto suo, corre il rischio di indurre qualche tentazione di portare delle turbative al mercato tutelando di meno i creditori e chi è disposto a finanziare l'impresa perché non avrebbe più quella possibilità di controllare i flussi e quindi di avere un minimo di garanzia offerto non tanto dal settore pubblico ma dalla regolamentazione pubblica generale. Quindi si tratta in sostanza e veramente chiudo di trovare di un'occasione molto favorevole perché consente di recuperare imprese che invece sarebbero condannate alla chiusura e quindi di poter recuperare un minimo di reddito di sviluppo a livello nazionale. Però questo necessita, nella necessità di creare una classe di professionisti che si specializzi in un settore che così come adesso si presenta molto complicato e quindi non è una cosa che si può fare alla leggera, bisogna approfondire bene e valutare le situazioni ma soprattutto richiede la revisione di alcuni meccanismi che concernono il settore bancario perché altrimenti si rischia di trovare in un loop che può essere molto pericoloso perché dopo un primo periodo di entusiasmo potrebbe portare a una tale livello di preoccupazione da provocare la interruzione del meccanismo. Non ultimo e quasi un corollario ma un corollario obbligato, se ne parla ormai dal 2014 quindi sono esattamente 10 anni se non si completa anche la Capital Markets Union non si può pensare che basti la Banking Union, cioè l'unione del mercato bancario ancorché da completare, da correggere benissimo, a poter fornire un finanziamento corretto alle imprese perché se noi costruiamo un ponte tra gli investitori o risparmiatori e il settore imprenditoriale il ponte normalmente come si usa dovrebbe avere almeno due pilastri, uno da una parte e uno dall'altra. Se abbiamo un pilastro solo posso anche fare una gettata in avanti ma prima o poi crolla e se non c'è una competizione equa tra settore di finanziamento di mercato e settore bancario finisce che le strutture imposte dal settore prevalente si ripercuotono anche sull'altro con l'effetto che il traffico non passa sul ponte e se il traffico non passa sul ponte è una perdita per tutti. Grazie.